Potrebbe trovarsi già in giornata una soluzione tampone alla questione policlinico. È arrivato questa mattina da Cagliari il gruppo di verifica nominato da Luigi Arru guidato dal direttore generale dell'assessorato della sanità Giuseppe Secchi. Accompagnati dal direttore sanitario della struttura Angelo Pietro Melis e dall'amministratore Piero Bua hanno ispezionato gli ambienti del policlinico con l'obiettivo di trovare una soluzione per risolvere le criticità più urgenti. La possibilità più probabile è la collocazione dei laboratori, della diagnostica e del comparto ambulatoriale tutti al piano terra. Questo consentirebbe di rispondere all'emergenza più stringente quella di rispondere alle migliaia di prenotazioni del CUP che il trasferimento alle altre strutture sanitarie cittadine ha già creato numerosi problemi e disagi alle stesse strutture e ai pazienti. Per fare un sopralluogo e vedere lo stato dell'arte. Mi sembra che siano animati dalla miglior volontà di chiudere una partita che è diventata molto spigolosa e molto combattuta. Comunque noi speriamo di riuscire per quanto riguarda la prima tranche ad avere questo benedetto accreditamento provvisorio per la parte ambulatoriale e in giro di poco anche per la parte ospedaliera perlomeno medica. Per il momento le sale operatorie e vedremo se sarà possibile trovare una soluzione anche qua provvisoria per quanto riguarda le sale. Dopo l'ispezione una volta rientrato a Cagliari il gruppo di verifica dovrà deliberare forse nel giro di poche ore. Intanto fuori dalla struttura di Via L'Italia continua il presidio quotidiano al grido di io sto col policlinico con tanto di hashtag che identifica il sit-in. Ogni mattina fino a venerdì i lavoratori e cittadini insieme ai commercianti del centro che hanno scelto di dare appoggio all'avvertenza della struttura manifestano nel piazzale del Nosocomio in vista della grande mobilitazione di lunedì 3 dicembre. Sono veramente adirata perché era la struttura che valeva a Sassari meglio dell'ospedale civile.